buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi vi porterò a conoscenza di un semplicissimo tool che vi permetterà di impostare un segnale un avviso per quanto riguarda il gas fidetti rion per permettevi di inviare una transazione di operare sulla boccia indieti rio al costo che avete deciso di impostare per il pagamento delle fee a fine tutorial vincolerò una parte di un video che ho caricato qualche mese fa che vi porterà a conoscenza per chi non lo conoscesse già e per scanne il gas tracker ovviamente dopo la sigla e tirium è una block chain ma soprattutto è una piattaforma per far funzionare e girare gli smart contract quindi ogni volta che noi interagiamo con la rete tirium e interagiamo con questi smart contract che vediamo lì un po come dei programmi che girano sulla block chain noi attiviamo per l'appunto questo smart contract e dobbiamo pagare una tassa una fee per l'esecuzione supponiamo di voler inviare degli tirium un token e riceventi noi avviamo la transazione di un token interagiamo anche se non lo vediamo fisicamente interagiamo con uno smart contract lo smart contract deve essere attivato e validato attraverso tutti i nodi della rete e per fare ciò c'è bisogno di una fee di un gas a seconda se vogliamo velocizzare la nostra transazione in modo standard medio o veloce e a seconda della congestione di quanto operazione ci sono all'interno della block chain in quel momento andremo a pagare meno gas o più gas operare su rete tirium non è sempre economico siamo stati abituati negli ultimi periodi ad operare su rete e tiro un conto che riceventi ha dei costi esorbitanti vi ho fatto vedere in un video caricato qualche mese fa un piccolo trucco per riuscire a pagare meno fi facendo delle conversioni con delle cripto valute che costano veramente poco di transazioni intendo come light coin oppure stellar ma se vogliamo operare proprio con rete tirium tralasciando le side chain come ad esempio polygon se non conoscete poli con data a vedere il video pubblicato in questi giorni non bisogna far altro che aspettare e provare a ripetere la nostra transazione diverse volte al giorno fino a quando non vediamo che il gas in quel determinato momento ha un costo minore in soccorso ci viene questo tool raggiungibile all'indirizzo e gas punto watch è un tool semplicissimo noi andiamo a stabilire quanto vorremmo pagare per transazione come ad esempio 20 g way mettiamo il nostro indirizzo email e non appena le fide tirium arrivano a costare 20 g way ci viene mandata un'email automatica che ci avvisa di questo calo di prezzo in quel momento cosa dobbiamo fare collegarci sul nostro metamask in qualsiasi exchange dove vogliamo fare un'operazione su reti tirium lanciare la nostra transazione in quel caso noi saremo avvisati anticipatamente e riusciremo a pagare meno fi rispetto a quelle che avremmo pagato se avessimo fatto un'operazione standard in un momento diverso da quello che ci ha avvisato l'email possiamo anche inserire più avvisi nella stessa email ad esempio posso mettere un'impostazione da 50 cliccare su watch e viene registrata questa operazione subito dopo posso mettere anche 40 reinserisco la stessa email e clicco su watch quindi ho in questo caso due parametri tra 50 e 40 posso essere allertato dell'abbassamento di questa fi come vedete cliccando su stats ci sono 13.971 alert 8.337 utenti che utilizzano questo servizio e vediamo che per le transazioni c'è stato un crollo assieme al crollo delle cripto valute di questi giorni questa flessione abbastanza pesante ha portato con sé anche un abbassamento dei costi delle transazioni per quanto riguarda il gas fi di eterium vi taccio capire meglio quanto andremo a spendere di fi ci aiutiamo sul sito è per scan punto io slash gas tre car vi lascerò comunque il link in descrizione cosa andiamo a notare allora tanto i parametri sono soggetti a variazione queste variazioni dipendono dalla congestione della rete di eterium ma è un indicatore molto importante perché ci dice che ad oggi per una transazione media a basso costo quindi molto lenta da 10 minuti circa andremo a pagare 3 dollari 68 per una transazione invece veloce da 30 secondi mediamente andiamo a spendere 4 dollari 2,87 centesimi il gas viene indicato come giue quindi per una transazione alta non andiamo a pagare 123 giue per una transazione bassa quindi più lenta 93 giue sotto abbiamo un indicatore di quanto andremo a spendere se interagiamo con alcuni protocolli ad esempio col protocollo rc 20 andiamo a pagare per una transazione bassa 11 dollari per una transazione veloce 15 dollari al momento il protocollo decentralizzato più tassato perché anche quello più utilizzato e uniswap dove una transazione bassa va a costare 35 dollari mentre una transazione veloce 46,39 centesimi di dollaro va da sé che se dobbiamo fare una transazione nessuniswap con 100 150 dollari è veramente assurdo andare a pagare 35 dollari o 46 dollari di fee in questo caso noi cosa possiamo fare la prima cosa la cosa più semplice attendere è attendere che la rete si decongestioni ovviamente non possiamo sapere la variazione in anticipo del gas e quindi la rete quando sarà meno utilizzata meno congestionata ci saranno delle variazioni sia in positivo che quindi il prezzo potrebbe delle fee aumentare o essere al ribasso un'altra cosa che possiamo fare eventualmente se vogliamo comprare una cripto valuta e abbiamo la fortuna di non dover utilizzare per forza un protocollo decentralizzato quindi un protocollo su eventualmente defy dobbiamo andare a controllare che la cripto valuta il token che vogliamo acquistare sia presente anche all'interno della di un exchange centralizzato come può essere balance quindi in quel caso lì noi andremo a comprare lo stesso top nella stessa che ripeto valuta a un prezzo nettamente più basso la maggior parte delle volte non sarà così perché alcune alcune token alcune cripto valute saranno listati su exchange decentralizzati che al momento girano sulla voce indiettili diverso è se riusciamo a interagire con dei decks che girano su bainas ceno bainas marciena allora lì le fi saranno notevolmente più basse di sotto vediamo un po una classifica dei protocolli che stanno diciamo consumando più gas alla prima posizione abbiamo uniswap seconda posizione abbiamo tether la terza posizione abbiamo open si nella capa alla quarta abbiamo one inch qua sotto vediamo le fi delle ultime tre ore o le fi delle ultime 24 ore come vedete sono veramente carissime quindi meglio evitare di utilizzare ethereum in questo momento ora per farmi vedere quello che dicevo della congestione della rete ethereum ho appena aggiornato la pagina e come vedete da 46 dollari per una transazione veloce siamo passati a 51 dollari e 36 quindi in questo caso uniswap su rete ethereum sta aumentando il costo del gas bene ragazzi anche per oggi siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di unire la nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi e se avete voglia di condividere i miei video e lasciarmi un like per aiutarmi con l'algoritmo di youtube ciao a tutti alla prossima e buon weekend